Pensate di vivere in uno stato febbrile per un anno intero, con la temperatura corporea che raggiunge in alcuni momenti anche 40 gradi. Difficilmente si potrebbe scambiare per un semplice malanno stagionale. Ora sostituite a voi stessi il mare e avrete la situazione che stanno vivendo le nostre acque. Già, perché tra il maggio 2022 e quello 2023 si è registrata nel mar Mediterraneo la peggiore ondata di calore dal 1981, arrivando a toccare nel corso del 2023 il valore termico maggiore. Lo studio in cui è inserito il monitoraggio del mare Nostrum è globale e va avanti da anni, ma il mar Mediterraneo riveste nelle rilevazioni dello stato di salute dei mari un ruolo fondamentale, dato dalle sue caratteristiche particolari. L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, denominata Enea, è uno dei punti di riferimento per il monitoraggio dello stato di salute dei mari italiani. Il mar Mediterraneo traina, cioè una delle locomotive viene studiato perché è un hotspot cioè guardare quello che succede nel Mediterraneo viene ritenuto indicativo di quello che succede dopo con tempistiche diverse nel resto dell'oceano, chiaramente su dimensioni diverse. Anche uno dei mari più inquinati perché è fatto a un colo di bottiglia. Il problema non è solo la velocità di crescita e nuovi valori raggiunti della temperatura. I parametri di salinità e del contenuto di ossigeno del mare sono altrettanto importanti. Di sicuro chiamiamo di termometri e poi gli strumenti che mi sono sempre salinità e contenuto d'ossigeno perché sono i due parametri che classificano la qualità delle acque a livello fisico e a livello chimico. Per quello che si è capito, quest'acqua ha caratteristiche molto particolari, cioè acqua che sembra prodotta e generata perché è calda e salata, viene prodotta nel Mediterraneo nella zona che va dall'isola di Cipro all'isola di Creta. Migrano, attraversano il canale di Sicilia e lì vengono registrate dalla strumentazione messa dal CNR e poi noi abbiamo cominciato a trovare la nottireta. A fronte di una situazione preoccupante in continua evoluzione, collaborare tra enti e istituzioni diverse per l'operazione di monitoraggio diventa sempre più importante. La cosa bella è che in questi ultimi anni è passato il messaggio che si deve lavorare insieme. Per determinati tipi di misure è possibile sfruttare le navi commerciali perché le navi commerciali ripetono sempre la stessa rotta. Se c'è un fenomeno particolare, si contatta la compagnia e non è necessario avere a disposizione una nave da ricerca specifica, i cui costi in genere sono abbastanza elevati.